Io vengo via per fare una scelta e quinto di me stesso per vedere il film da Corrivia a Tignicola e Moto e Tadco hai. E ti ho detto a fare il film. Qui hai al dito che è arrivata a Samarkand? Sì, no. Però sapendo già che il film si chiama Poche e Samarkand. Ho vinto morto e ho vinto nessuno di me. Sulle plazze, 10 centanti, io sulle moto. Se sei morto mi dici un pantalculo che devi fare così. C***o! Ma tu ne conti sulle tue storie? Conti su dott? Dott fuori che la storia che mi stava arrivato dal carcere. Quindi tu ne conti? No. No. E' una roba che si investe. 10-23 anni. Non ti tirare fuori. Io non ti leggo a metà strada, no? Guarda che ti toglie. Prendi i buss. Hai le scelte che neanche non le senti. Non si può se la morire per ciò deve fare il film. Tu mi dici cosa c'è fatto. Ci vieni di là in davanti. Ci vieni da ora. Zagabria. Neubrat. Sofie. Istanbul. Traversa tutto. Girat. Uzbekistan. Samarkand. Tarverna. Tarverna. Conar. Maastra. Si m'è per il resto.